Gentili telespettatori, buona giornata. Salvini con un'alzata di spalle liquida le ricostruzioni sulle spaccature interne e sulle manovre per disarcionarlo dalla guida del partito. Alza le spalle ma in realtà quello che lui ha fatto in accordo con Giorgetti e poi viene il dubbio che Giorgetti abbia cercato di influenzare Salvini per farlo far fuori politicamente. Allora o Giorgetti e Salvini sono uguali, sono due che statisti e politici non sono, o tutte due sono uguali, hanno avuto questa bella pensata di fare il poliziotto buono e il poliziotto cattivo facendo finta di dire no al Green Pass, no a tante cose, poi sempre con Draghi. Questa strategia per tenere l'emorragia di voti non ha fatto altro che accelerarla. Quindi la cosa è questa, o tutte e due di politica non capiscono niente o Giorgetti sapeva e ha spinto Salvini all'autodistruzione. Non lo so, non lo so. Secondo me sono due che di politica zero. Perché quello che vi ho raccontato in questi giorni è la peggior strategia politica che abbia mai mai visto. Io gli consiglierei di andare a ripetizione da Renzi. Allora, un paio di volte a settimana, Giorgetti e Salvini, due ore il martedì, due ore il giovedì, portatevi quaderno, matita per prendere appunti, non so perché dovete anche, Renzi parla, prendete appunti e così capite com'è un politico. Perché Renzi, guardate, io non sono renziano per niente, per nulla, non so se... ma Renzi è dieci metri sopra questi due politici qua. Perché realmente Renzi ha fatto cadere Letta, ha fatto cadere Conte, ha fatto mettere lì Draghi, si sta adoperando per cercare di far diventare presidente della Repubblica che vuole lui. Guardate che Renzi, Renzi politicamente è un politico con le controorecchie, poi ha perso la faccia nel senso che gli italiani non gli credono più. Ma Renzi sa come fare i giochini politici. Giorgetti e Salvini, ma manco dei dilettanti allo sbaraglio, avrebbero mai fatto quello che hanno fatto in questi mesi. Poliziotto buono, poliziotto cattivo, sì, no, forse, disastro. E Salvini, quando gli dicono che lo vogliono cacciare dal suo partito che ha fondato, che ovviamente è impossibile. Come fai a cacciare il fondatore del partito? È impossibile, cioè è come togliere la macchina a uno che è sua. Come fai, no? Ecco, però lui sa di questo, sa che nessuno lo può mandare via, perché il partito l'ha fatto lui, si chiama Lega Salvini Premier. Dice c'è una Lega sola con un segretario orgoglioso di guidare un partito che non è una caserma, disponibile al congresso. Io mi metto in discussione tutti i giorni. Se c'è qualcuno migliore di me, sono contento che mi godo la mia famiglia. Quindi la sfida di Salvini, se nella Lega c'è qualcuno migliore di me, dice, ah boh, benissimo, io mi sto a casa con la mia famiglia. Salvini, guarda che nella Lega non ci sono tuoi nemici, sei tu il nemico di te stesso, sei il nemico di te stesso. Io qualche volta mi dico da solo che sono il nonno di me stesso. So il nonno di me stesso. Tu Salvini sei il nemico di te stesso. Nessuno ti vuole distruggere, né nella Lega, né nel centrodestra. Nel centrodestra non c'è nessuno che ti vuole distruggere. La Meloni va per la sua strada, per i fatti suoi, è più brava, è più leader. La gente va con lei, ma lei non è che ti fa gli sgambetti, le brutte parti, ti porta via le sedie. quella va per conto suo. Berlusconi è per i fatti suoi, vive nel suo mondo. Il fantastico mondo di Silvio, con la macchinetta, Villa Lacertosa, col Vulcano, la pizzeria per lui e gelateria aperta 24 ore nel suo giardino. Il Silvio vive nel suo mondo, la Meloni fa i fatti suoi. Nel centrodestra nessuno ce l'ha con te. Nel tuo partito nessuno ce l'aveva con te. C'era Letta che giocava ad avercela con te, faceva finta, l'antisalviniano, ma Letta è quel che è, dai. Non c'è nessuno realmente che ce l'avesse con te in politica. Hai fatto tutto da solo. Hai fatto tutto da solo. Ma lui dice, se c'è qualcuno migliore di me nella Lega, si faccia avanti. Io sto a casa con la mia famiglia. Certo non è un periodo tranquillo per il segretario, che più che segretario è il capo politico. Luca Morisi, se avete visto il regista della macchina social, se ne va. Dice motivi personali. C'è stato evidentemente un grosso problema, perché se ne è andato. Uno che addirittura era entrato nella segreteria personale, la segreteria personale di Salvini. Aveva un futuro probabilmente come deputato, senatore. Se ne va all'improvviso. Ieri il deputato siciliano Francesco Scomma, eletto nel 2018 con Forza Italia, poi passato a Italia Viva, ha scelto a sua volta di salire sul carroccio. Dice, avevo creduto che Italia Viva volesse avviare un progetto centrista, che però non c'è mai stato. Puntando troppo spesso a sinistra, ho scelto di andare con Salvini perché mi piacciono le sue idee e condivido il suo approccio politico. In pratica sta cercando di salvarsi lo stipendio per la prossima legislatura. Parla da un partito con l'1,7 dove sono tutti senza lavoro quando finisce questo governo, perché un partito dall'1,7 o anche se fosse il 2,5 non può accedere in Parlamento, quindi sono tutti disoccupati. passa nella Lega dove ha qualche probabilità in più di avere un lavoro nella prossima legislatura. Altro che mi piacciono le idee di Salvini, condivido il suo approccio politico, ma va là, va là, dai. Mamma mia, ecco. Funziona così, che devono dire. Sono persone in cerca di un altro posto di lavoro. Poi ci sono quelli tentati di oltrepassare il confile, punire rimanendo nel centrodestra. C'è il senatore di Forza Italia Luigi Vitali, anche se smentisce, dice un mio passaggio nella Lega di Salvini. Al momento non c'è niente di concreto. Indubbiamente c'è un malessere mio verso un partito nel quale non milito più da due anni. Quel che è certo è che il clima all'interno del centrodestra, in giorni cruciali per le elezioni comunali, non è dei più sereni. Tanto che ancora non sono state calendarizzate le due conferenze stampa che erano previste a Roma e a Milano, con la partecipazione dei tre leader, Salvini, Meloni e Tajani. Io personalmente credo che i tre leader non faranno nessuna conferenza congiunta. Diranno, eh, Tizio aveva un impegno, l'altro ci aveva da fare da un'altra parte, quell'altro era con la macchinetta, i vulcani e i gelati a Villa Certosa. Vabbè, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.